In via Fiorentina la rotatoria più cara della storia, la giunta di Alessandro Ghinelli alla ricerca di record negativi, stanziati altri 730 mila euro per l'infrastruttura che arriverà a costare quasi 8 milioni di euro. È quanto affermano i consiglieri comunali in una nota Marco Donati e Valentina Sileno di Scelgo Arezzo sulla delibera di giunta che stanzia ulteriori risorse per il completamento della sospirata rotatoria. A rispondere è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli facendo una sorta di mea culpa. Su via Fiorentina invece le opposizioni insomma di nuovo oggi intervengono, lo avevamo già fatto ovviamente nella conferenza stampa post capodanno, sarà l'opera dicono loro più costosa di questa amministrazione? È un'opera costosa perché è un'opera complicata, molto più di quello che non si era pensato fin dall'inizio perché era stato completamente sottovalutato il tema dei sottoservizi. Ha risolto quello e siamo alle ultime battute del spostamento dei sottoservizi. Inizieranno le opere stradali ma c'è da ricordare che non è una rotatoria, è una rotatoria con un sottopasso, quindi è un'opera costosa di suo. Non è stato previsto questo importo fin dall'inizio perché non si era capito, i progettisti non avevano compiutamente compreso quali opere c'erano da spostare. Rimane il fatto che tempi certi su quando l'opera vedrà la luce ad oggi non ci sono. La luce la vedrà sicuramente circa i tempi, ora fatemi riverificare con l'impresa quale sarà il nuovo cronoprogramma che deve essere prodotto.